Non saprei dire quando tutto è iniziato. Eppure quello che era successo riguardava tutti noi. La nostra educazione, il nostro quartiere, la nostra scuola. Bisognava provare continuamente di essere veri uomini. E una volta dimostrato, ricominciare da zero per dimostrarlo una volta ancora. Per subire il male, ci sarà pur bisogno di qualcuno che lo commenta. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più flagrante Cancella col coraggio quella supplica dagli occhi Ciao! E Carlo? Se vogliamo possiamo raggiungere la sua villa. Quale villa? Aprileci! E noi ancora, ancora più su Planando sopra boschi di braccia Grazie a tutti! Grazie a tutti!